Applausi ma le due cose si spostano molto bene, abbiamo sentito parlare di educazione, questa è una conclusione di questo discorso è evidente che quindi il legame è molto forte allora Prem Ravate è ambasciatore della dichiarazione di Bruxelles Pledge to Peace cioè impegno per la pace che è stata figlata presso il Parlamento Europeo il 28 novembre del 2011 poi ha circolato anche e soprattutto grazie a lui in parecchi paesi d'Europa si dice di solito che certi personaggi non hanno bisogno di presentazioni, io credo che sia anche quella un po' ma retorica quindi presentiamolo per come si merita il nostro ospite d'onore Ravate stancabile, come stavo dicendo prima stancabile autorevole testimone di pace protagonista di un continuo impegno che lo porta a viaggiare per gran parte dell'anno rispondendo ai numerosi inviti che gli giungono da tutto il mondo la sua costante attività di ambasciatore di pace l'ho portato già in più di 50 paesi nei suoi discorsi Ravate espone un punto di vista profondo e originale sui temi della pace e della centralità dell'individuo offrendo una prospettiva accolta con uguale apertura e favore delle culture e degli ambienti più diversi esprime con un concetto della pace che ne valorizza la necessità fondamentale nella vita di ciascuno esponendolo come un nuovo bisogno essenziale così come sono considerati fondamentali diritti civili le necessità primarie e l'accesso alle opportunità grazie ad una cresciuta sensibilità riguardo ai temi da lui trattati nel recente periodo i suoi interventi sono stati recepiti con particolare attenzione nel mondo istituzionale accademico internazionale Ravate è anche impegnato attraverso una fondazione la Prime Ravate Foundation da lui costituita e numerose iniziative umanitarie che mirano a migliorare le condizioni delle persone più in difficoltà in molte aree e crisi del mondo il suo intervento a Media for Peace avviene in occasione della sua visita a Paderno e in punto nel suo ruolo di ambasciatore della dichiarazione di Bruxelles Pledge to Peace prego Distinguished guests Ladies and gentlemen I'm not a journalist I'm not a journalist So what can I tell you when we come to this title Media for Peace or a journalist for peace media per la pace i giornalisti per la pace as a non-journalist what does it mean to me come non-journalista a me per me cosa significa perché credetemi I definitely appreciate perché credetemi senza sorprezzo la sfida che davanti ai giornalisti una persona ha detto che la penna è più potente della spada la spada può darsi che faccia del male a una persona una volta le parole possono guarire le parole possono illuminare o le parole possono distruggere dunque la responsabilità che avete non soltanto di riportare le notizie ma dove mettere le virgole il punto interrogativo il punto fermo determina il modo in cui date forma i pensieri delle persone che leggono le notizie dunque io non sono un giornalista ma ogni giorno che sono a casa che non è molto spesso a l'ora di pranzo leggo il giornale e vedo la situazione del mondo a volte sai soltanto che questo è il giornale di oggi in base alla data che porta non in base al contenuto perché ogni giorno c'è una guerra ogni giorno c'è qualcuno che prende qualcosa di molto importante e so che molte molte volte ho desiderato che ci fosse un giornale che dicesse quella che è una vera notizia per me dunque prima di arrivare a questo vorrei dire chi è un giornalista e cos'è la pace è facile dire ai giornalisti per la pace ma chi è un giornalista e cos'è la pace il giornalista è un essere umano e ogni singolo essere umano sulla faccia della terra ha un obbligo verso l'umanità preservare l'umanità e creare circostanze in cui il bene degli esseri umani viene perpetuato questa è la responsabilità primaria che tutti quanti noi abbiamo dunque il giornalista dunque il giornalista innanzitutto è un essere umano cos'è un essere umano 50% buono 50% cattivo quello che determina ciò che passa quella pianta che viene annaffiata se il bene viene annaffiato diventa grande e se si annaffia il cattivo diventa grande il cattivo sape questo mi sembra molto semplicistico esageratamente semplicistico ma se qualcuno mi chiedesse cos'è un oceano non vi farò una conferenza di mezz'ora preferirei condurvi in un luogo in cui potete vedere l'oceano da voi stessi per me sarebbe sufficiente stare da parte indicare l'oceano e dire ecco qui non le piccole virgole non i punti esclamativi ma eccovi l'oceano questo è il modo in cui sono io dunque quando si parla dell'argomento di cos'è un essere umano la domanda diventa conosciamo noi stessi c'è stato un esperimento che fece un artista prese un enorme specchio e lo portò nella giungla in Africa e lo lasciò lì e questo grosso gorilla enorme arrivo lì e vide il proprio riflesso però non vide il proprio riflesso vide un altro gorilla e diventò un matto cominciò a sbattere i pugli sul petto a camminare avanti e indietro e fu molto strano perché ogni cosa che faceva questo gorilla come la sfida che le lanciava partendo sul petto l'altro gorilla faceva esattamente la stessa cosa dunque questa guerra fra i due gorilla cresceva di smisura e alla fine il gorilla corso verso lo specchio e per fortuna era fatto di acciaio inossidabile e ci andò a sbattere contro sentì il dolore e si cresce indietro per ricominciare però a fare esattamente la stessa cosa da capo come racconteresti la storia? in che modo racconteresti la storia? il gorilla ha veramente visto un altro gorilla? oppure il gorilla ha visto se stesso? una delle caratteristiche dell'essere umano è che riconosciamo il nostro riflesso il gorilla vide il suo proprio riflesso ma siccome non riusciva a capire che era lui stesso era molto aggressivo e difendeva il proprio territorio dunque l'essere umano quando vedi un altro essere umano che cosa vedi? non è questo che vediamo non ci insegnano questo vediamo una femmina vediamo un maschio vediamo un vecchio vediamo un giovane vediamo una persona colta una persona ignorante vediamo un ricco vediamo un povero mi sbaglio? non ci mettiamo forse solo i primi secondi per valutare chi è questa persona quando camminate per strada è scuro ogni tanto c'è una piccola luce accesa vedete passare una bellissima ragazza vi sentite minacciati? no potrebbe essere benissimo una rabbinatrice però non vi sentite minacciati vedete invece un uomo con una grossa cicatrice sul volto grosso grande grosso forse è un santo ma non per te perché questo facciamo ogni secondo mettiamo ogni persona in una scatola qual è il male non funziona vedete dobbiamo renderci conto che abbiamo fatto le stesse cose da migliaia di anni cose che non funzionano ma continuiamo a farle c'era questa intervista oggi c'era questa intervista oggi in cui ho citato Einstein la definizione di lunacea continuare a fare la stessa cosa e aspettarsi un risultato differente le guerre continuano ad accadere le guerre continuano ad accadere funzionano? no però continuano ad accadere i poveri stanno diventando più poveri i poveri diventano più poveri e i ricchi diventano più ricchi quasi il 50% del cibo che viene prodotto è spiegato e gli affamati diventano ancora più affamati non funziona non si riconosce cos'è un essere umano non si comprende cos'è un essere umano vogliamo la prosperità ma non comprendiamo cos'è la pace cosa pensiamo che sia la pace? se venite da una storia spirituale la pace è lo stato in cui si è come una pianta sei lì silenzioso non parli non mangi molto non vai al cinema rimani fermo in un posto la maggior parte del tempo tieni gli occhi chiusi e sei in pace poi magari tirati anche la testa questa pace questa pace Kabir un po' ed indiano dice che se bastasse radersi i capelli per avere la pace allora sarebbe come le pecore ogni anno vengono tosate sono in pace le pecore vedete la pace non è nessuna di queste cose la pace fondamentale è la pace che senti dentro di te è uno stato dell'essere che avete in questo momento la pace è dentro di voi ora la pace non deve essere generata la pace non deve essere creata la gente combatte non perché non capiscono cosa è la pace la gente combatte perché non capiscono cosa sono loro stessi non capiscono cosa è la pace noi non comprendiamo che quello che sei fatto da io sono fatto da stessi siete fatti della stessa cosa di cui sono fatto io dunque pace non è l'assenza di guerra la pace non è l'assenza di guerra la pace non è l'assenza di guerra la pace è qualcosa che si può sentire anche nel mezzo della guerra sto parlando di una distinzione fondamentale sto parlando di una distinzione fondamentale ciò che accade all'esterno e ciò che avviene dentro di noi e ciò che accade all'esterno è un riflesso di ciò che accade dentro se si perpetua il male se si perpetua il male è questo che sarà riflesso se si perpetua il bene il bene sarà riflesso non abbiamo mai dato una possibilità alla pace abbiamo provato tutto il resto vogliamo avere prosperità ma la prosperità non avrà successo se non c'è la pace guardate la situazione attuale guardate la situazione attuale la struttura stessa della società si fa pezzi le madri in società di successo hanno vergogna di avere figli i bambini piccoli vengono abbandonati in successo di ricchezza che sta succedendo? l'altro giorno ho letto questa notizia e mi ha scioccato questo padre ha ucciso il suo bimbo piccolo perché? perché il bimbo stava piangendo e lui stava cercando di giocare il suo videogioco ed era così frustrato che ha ucciso il suo bimbo piccolo che sta succedendo? è questa la proiezione dell'umanità? è questa la proiezione dell'umanità? cosa è successo alla bontà e alla gentilezza di cui siamo fondamentalmente fatti? il riconoscimento dei nostri bisogni in questo momento guardate tutto lo sconvolgimento che c'è lo potete chiamare uno sconvolgimento molti giornalisti vengono da me e con il loro microfono dicono perché pensi che sta succedendo questo? scusate tutto questo è cominciato molto tempo fa quando non avete visto che c'era l'autobus che vi arrivava addosso? non vi siete resi conto che c'era un pianoforte che vi stava cadendo in testa? questo succede quando gli esseri umani non agiscono come esseri umani dunque infine se voi comprendete che la pace è una cosa che è dentro di voi e che c'è in questo momento se voi comprendete voi stessi comprenderete cosa è la pace che un giornalista un dottore un avvocato un pilota sono tutti esseri umani ed è l'essenza dell'essere umano che deve essere perpetuata allora allora c'è una possibilità per questa umanità c'è una possibilità per noi c'è una possibilità per i nostri figli c'è una possibilità per i nostri nipotini c'è una possibilità che coloro le persone di questo mondo hanno una strada che non hanno tanto che un giorno saranno in grado di apprezzare ciò che è fondamentale che un giorno smetteremo di sprecare le risorse che un giorno inizieremo a rispettarci reciprocamente magari non ci dobbiamo baciare in un altro ma il rispetto di cui parlo è che tu sei un essere umano il diritto di esistere io lo stesso l'ultima cosa che vorrei dire lavoro con molte persone che sono degli ospedali delle prigioni in diverse situazioni e vi posso dire una cosa so che ci sono molte cose sbagliate in questo mondo molte cose che sono molto sbagliate in questo mondo ma vorrei anche dirvi che ci sono tante cose molto buone in questo mondo c'è la bontà ci sono persone che vogliono rendere questo mondo un posto migliore so che ci sono molti di voi seduti qui che dicono che la pace non ci potrà mai essere vorrei dirvi una cosa anche se fossi d'accordo con voi avete un'alternativa? ok, fine forse c'è troppa pazzia in questo mondo avete un'alternativa? non c'è nessuna alternativa e la seconda cosa che vi vorrei dire è che molto tempo fa quando il presidente Kennedy annunciò che gli americani sarebbero stati primi ad andare sulla luna c'erano senz'altro due campi diversi definiti alcuni dissero non si può fare adesso sappiamo che sulla luna ci sono arrivati perché sono arrivati sulla luna? a causa di coloro che hanno detto che non si poteva fare o di coloro che hanno detto che non si poteva fare o di coloro che hanno detto che sì che si poteva fare penso che dobbiamo comprendere che come umanità non abbiamo scelta perché dunque dobbiamo comprendere che non sono le nostre responsabilità dove mettere le virgole e i punti esclamativi ma comprendere anche la nostra responsabilità verso l'umanità i miei 20 minuti sono finiti mi ringrazio molto per la vostra attenzione grazie bravo non è facile parlare subito dopo per ovvi motivi quindi credo che la cosa migliore sia conservare nelle nostre orecchie, nelle nostre menti e anche nel nostro cuore fatemelo dire il ricordo di questo pomeriggio soprattutto di quest'ultimo intervento così appassionato e convincente Ravata esordito dicendo che non sono un giornalista ma sicuramente un straordinario comunicatore lo abbiamo visto l'opera è un momento ringrazio ringraziare gli intervenuti soprattutto appunto il nostro ospite speriamo veramente di rivederlo e riscoltarlo al più presto anche qui in Ateneo ringrazio l'associazione percorsi l'ordine dei giornalisti tutti gli intervenuti e appunto nella speranza di rivederci ci passo un attimo la parola al nostro ospite grazie a tutti è leggermente più facile intervenire dopo l'amico Gianfranco dopo il professor Marrone sono rimasto veramente colpito dal dottor Rawat dal nostro ospite d'onore e ringrazio tutti per aver organizzato questa giornata e perché davvero qualcosa resti nei nostri cuori ma fondamentalmente da noi anche nelle nostre azioni perché sono quelle che che determinano le cose le nostre scelte e le nostre azioni io vi ringrazio vi ringrazio tutti saremo felici di ospitarvi di ospitare l'associazione di ospitare tutti gli ospiti nuovamente per altre occasioni qui e sono davvero contento di avere che abbiamo potuto ospitare come appenaio questa manifestazione questa giornata grazie 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 Grazie. Grazie.